Hi guys! Donna Disavventura è approdata a Santorini a festeggiare il compleanno di Gloria. Adesso vi presenterò le mie compagne di viaggio. Abbiamo Paola, la nostra fashion blogger o anche Sfinge Dorata. Abbiamo Gloria, la nostra festeggiata. Ciao! Abbiamo Eleonora, la nostra influencer dell'edilizia. Mari Balvin! Buongiorno! Buongiorno! Iscriviti alosto Facciamo un'oretta di piscina, poi ci prepariamo velocemente, aspettiamo il tipo ed andiamo in centro, compriamo regalini, le cose, quello che vogliamo e poi andiamo giù al porto e prendiamo la barca. Questa sera quando torniamo, secondo me, visto che tempo è poco, sai che facciamo? Prendiamo i motorini e andiamo in una spiaggetta di quelle con la musica carina e ci facciamo solo l'aperitivo senza andare in spiaggia, solo giusto per vedere un'altra spiaggia, no? Vai! E poi dopo torniamo, torniamo a casa e ci cambiamo per uscire, quando abbiamo voglia. Quante volte posso fare la pipì? Mettete il pannolone. Gloria, cosa sta succedendo? Troppe informazioni stamattina, troppe, c'è Paola ha già organizzato tutta la giornata. Ma ti hai capito cosa devo fare? No, infatti devo rivedere tutto il video che ha messo del programma della giornata per vedere la prima cosa da fare. Troppe informazioni. Dai, allora adesso lo riguardiamo insieme. Sì. Ha già fatto in modo che vediamo un posto nuovo. Ma tra tutte dicevamo stamattina che tra tutte arriveremo tipo le cinque e mezza, sei. Mamma mia. Non contraddire? Ma viviamola molto scianti la pazzetta. Ma che ne so, la parola di fare le docce, tutti i quadri, i capelli, non c'è, come i metodi, come i metodi, come i metodi. No, non facciamo prima. Secondo me alle nove ci si riesce. O se va a cucinare. Senta, non fai tanta lunga. Perché se seguite i tempi miei, ce siamo. Si va! Si parte! Oh mio Dio! Che sei agitata, Pastor Mia? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma siamo state anche porzionate e l'abbiamo presa al buono! Oh mio Dio! 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 Hai 40 che devono arrivare!